Eita? Shhh, lo so, lo so, lo so. Non ti farò male. Non te ne avrei mai fatto se avessi potuto. Che vuoi dire? Non sono un maniaco. E non lo sono nemmeno Margherito. O il mio piccolo Lucas. E nemmeno Zoe. Quella Evelyn è colpa sua. Che cosa diavolo è? Cosa vi ha fatto? Ci ha infettati con il suo dono. È così che lo chiama. L'ho trovata tra i rottami di una nave nel baiù. Poi tutto è cambiato. Ti infetta e controlla le tue azioni. No? Non proprio figliolo. Lei... Penetra dentro la tua mente e nella tua anima. Non puoi oppurti. Lei diventa una parte di te. e non puoi più resistere al bisogno di... Ti trasformi in qualcosa di diverso. Come con Mia. Mi ha contattato perché spinta da Evelyn. Ascoltami. Quella ragazzina vuole una famiglia. è lei la chiave. Capito? Tu devi trovarla. E fermarla. Eden. Devi liberarci. Ti prego. Evelyn. Stai lontana da lui, ok? Perché? Lui non ti ama. Io posso far sì che ti ama. Non... Non fargli del male. Te l'ho detto. Non ho intenzione di fargli del male. Non lo sarei. Altrimenti... Non sei mia mamma. Ricorda. Aspetta. Mia... Mia, ma qui... Non c'è tempo. Presto. Esci di qui e trovala. Tieni. Prendi questo. Cosa? Ferma. Che vuoi fare? Cosa vuoi fare? Salvati. Ora devi andare. Non riuscirò a resistere ancora a lungo. No. Vai e uccidi quella muzzosa. No. No. Mia! No! No. 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 I cof minute recingiti del nostrozzoglio. Finituta. Grazie. 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 Grazie.